Mi dispiace solamente dall'orgoglio che sta accendo Si mortifica ogni giorno per la mano che fa niente Che non vede la coscienza, che non vede il rispetto Come fa una vita su ogni buona sera Rindoletta, rindoletta, buona sera, rindoletta Rindoletta, rindoletta, buona sera, rindoletta Amiche pensionate e pensionati, buona giornata Io riprendo anche dopo questa tornata referendaria le trasmissioni Quest'oggi voglio parlare del partito pensionati Voglio parlare dell'organizzazione del partito pensionati Voglio tralasciare ancora ulteriori commenti In attesa che si svolgano gli adempimenti Che possono seguire alle dimissioni del Presidente del Consiglio in carica Che come ha detto la notte quando hanno cominciato ad affluire i dati elettorali Gli exit poll prima e poi quelli definitivi Dove lui con una dichiarazione ha detto Io ho perso, lascio, adesso tocca ad altri stabilire il da farsi Ovviamente al Presidente della Repubblica e ai partiti che si sono coalizzati Per mandarlo a casa Quindi riservandomi nelle prossime trasmissioni i commenti relativamente a quello che si verificherà Ecco, pigliamo atto di quanto è accaduto Non avremo modifiche alla nostra Costituzione Rimarrà in piedi quella vigente Che prevede il Senato e la Camera dei Deputati con gli stessi membri Pagheremo di più il costo della politica Ma lo hanno scelto gli italiani Ed in particolare lo hanno scelto gli italiani del Meridione Che si sono dimostrati tutti quanti grandi scienziati del dettato costituzionale Un po' di ironia, lasciatemela passare Abbiamo per il 70% votato no alle modifiche Io non so quanti di quelli che hanno votato no Hanno letto le modifiche costituzionali Quanti hanno letto la Costituzione vigente Quanti sono stati consapevoli del voto che hanno dato nell'urna Veniamo al Partito Pensionati d'Europa Noi dobbiamo continuare, amici pensionati e pensionati A sperare, a credere nella possibilità Che finalmente un giorno ci sarà un partito di riferimento Che potrà trattare tutte quante le nostre problematiche Ma trattarle per fare che cosa? Forse per poterci arricchire Per fare parte della politica che conosciamo Per fare anche noi soldini Per vedere un poco che cosa portare ciascuno di noi a casa Noi pensiamo ad un partito pensionati Che riesca ad affrontare le problematiche Che sono quelle della nostra vita reale certamente Delle nostre pensioni che sono bloccate Delle nostre pensioni minime Che non ci bastano per campare Della impossibilità Ecco, da parte nostra Perché residenti in Campania? Ecco perché dico che il 70% che si è dimostrato consapevole Ma quanti di loro hanno letto le norme che modificavano la Costituzione Nelle quali norme all'articolo 5 si stabiliva una diversa Ecco, conformazione dell'applicazione della legge sulla sanità Certo le funzioni rimanevano alla Regione Però come già avevamo conosciuto nel corso della campagna elettorale Il commissario per esempio della sanità della Regione Campania Ecco, è stato identificato nel Presidente della Regione Campania Il che significa che se, come è vero che si è verificato Il nostro Presidente di Regione Aveva già risolto il problema delle aziende Ecco, collegate, convenzionate con la Regione Che effettuano interventi al posto della sanità pubblica Che per dare un intervento ad una persona normale Lascia attendere mesi, 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 mesi Ebbene, negli enti convenzionati L'intervento lo si fa nel giro breve Quindi se io devo farmi una operazione all'appendicite Devo mettermi in coda nelle strutture pubbliche Ci metto mesi Se la vado a fare nelle aziende convenzionali Ci metto 7-8 giorni Per avere l'appuntamento E per risolvere nel giro della mezza giornata L'operazione stessa La stessa cosa vale per l'ernia La stessa cosa vale per tutte queste operazioni Banali che ciascuno di noi Ecco, arrivata ad una certa età Ma non solo E' costretto a prendere in considerazione Ebbene, questa situazione è stata risolta in Campania Grazie alla firma Alla sottoscrizione dei contratti con le aziende convenzionate Rimaneva in piedi E rimane in piedi La questione delle visite specialistiche Che da 4 anni Tutto a nostro carico Ebbene, noi sappiamo Ci auguriamo soprattutto Che anche questo aspetto della sanità in Campania Venga affrontato e risolto Dal neocommissario Nella sua veste anche di presidente della regione Perché più volte ha auspicato Che questa situazione Possa essere risanata E messa nella normalità Come per tutte le regioni Non si vuole capire tutto questo Non si vuole pigliare in considerazione Un partito pensionato Che cresce Che riesce ad avere una sua presenza Nelle istituzioni Può essere utile Affinché non si rinvino Più questi provvedimenti Che riguardano In particolare i pensionati Ma guardate bene Non riguardano solo i pensionati Riguardano anche le famiglie Nei quali i pensionati vivono Riguardano Ecco Coloro i quali fanno parte della famiglia Dove vivono i pensionati Perché gli oneri Cui viene sottoposta la famiglia Sono complessivi E quindi Danno l'infelicità Danno l'impossibilità di vita E noi Dobbiamo Muoverci Affinché Tutto questo venga Risolto Agevolato Da che cosa? Dalla presenza di un forte partito pensionato Nelle istituzioni Io voglio raccontarvi Qua per darvi un po' di Ecco Di Di Speranza in più E di Capacità di guardare Ecco In prospettiva Cioè Nel corso di questa campagna elettorale Per il referendum Noi abbiamo Questi video Che ci vedono insieme Quotidianamente Tre volte al giorno Ecco Noi in molti casi Perché ci stiamo Rendendo Consapevoli Che è necessario Conoscere Strumenti di comunicazione Di comunicazione Che siano Anche diversificati In questo caso Parliamo Dei Social Parliamo di Facebook Parliamo di Twitter Parliamo Delle altre Le piattaforme Social Che mettono In contatto I cittadini Tra di loro Ebbene Noi abbiamo provato A sponsorizzare Guardate bene I nostri video Sponsorizzare Significa Su Facebook Per esempio Spendere 10 euro Per mandarli Verso Un pubblico Specifico I nostri video Anche scegliendo L'età A cui Facciamo Riferimento Perché Vengano Guardate Visti E magari Commentati Noi abbiamo Avuto un'esperienza Che in precedenza Non l'avevamo Mai fatta E ci siamo Resi conto Che è stata Un'esperienza Nettamente Positiva Noi stiamo Ricevendo Telefonate Da ogni parte D'Italia E stiamo Prendendo atto Che c'è Ecco In giro Per l'Italia La voglia Di vederlo Un partito Pensionati Ecco Sulla scena Politica Italiana E su questo Stiamo basando La nostra Attività Ecco perché Voi vedete In sovraimpressione Sul vostro Teleschermo Anche un numero Fatto di cifre E di lettere Che è Ne più Ne meno Il numero Di riconoscimento Del Nostro Conto corrente Che non è Personale Badate bene Intestato Partito Pensionati D'Europa Attraverso Quel numero Inserendolo Sul Se volete Farlo Ebbene Se volete Sostenere L'attività Perché Qualsiasi Tipo Di attività Il partito Pensionati D'Europa Vuole Mettere In essere E vuole Fare Per allargare La sua Visuale Per poter Entrare In collegamento Con quante più Persone Possibile Ebbene Ha bisogno Di essere Sostenuto Anche Finanziariamente Ha bisogno Di essere Di essere Ecco Confortato Dall'esistenza Di un certo Numero Di iscritti Iscritti Che non devono Essere Soltanto Napoletani Di Napoli Ma devono Essere Della Campania Devono essere Della Basilicata Devono essere Della Lombardia Devono essere Del Lazio Devono essere Di tutte le regioni D'Italia Perché noi Dobbiamo In questo contesto Politico Che è in crisi Perché è in crisi Paurosa Perché Se non fosse Stato in crisi Questo contesto Noi non avremmo avuto Il risultato Che ci siamo trovati Perché quella legge Ecco Di modifica Costituzionale Sarebbe stata Votata In Parlamento Non dal Meno di due terzi Di cittadini Di parlamentari Ma sarebbe stata Votata Ecco Dai due terzi Di parlamentari E non avremmo avuto Bisogno Di chiamare I cittadini Ad esprimere Il proprio parere Perché in una democrazia Ben organizzata Rappresentativa Come Noi abbiamo scelto Di avere Dopo la caduta Del fascismo Ebbene Noi Potevamo Benissimo Fare a meno Di questa prova Referendaria Che era un di più Perché è una legge Che passa tre volte Alla Camera E tre volte al Senato Con la maggioranza Dei votanti Già è Per quanto mi riguarda E guardando la politica Non come l'arte Del difficile Ma come l'arte Dell'agevolazione Per i cittadini Del fare vivere meglio Gli italiani E doveva Non avere bisogno Del referendum È stato così Perché non si è raggiunto I due terzi Che prevede La vecchia costituzione Quella vigente oggi E ci ritroviamo In questo contesto Allora noi abbiamo bisogno Abbiamo bisogno Di essere Diversamente organizzati Diversamente presenti Abbiamo bisogno Di una Di una Ecco Volontà Da parte di voi Amici Pensionati E non Perché questo Non è un partito Ecco Un'associazione Tra pensionati Tra ultra 65 anni 70 anni 80 anni E così via Noi siamo un partito Di riferimento Certamente Per questa Grande parte Di popolazione 20 milioni Di popolazione 20 milioni 20 milioni Di pensionati Abbandonati Da loro stessi Per i quali Nessuno lotta Per i quali nessuno Chiede niente Voi vedete Anche sui social Si parla Di quelli che devono Prendere la pensione Si parla Di coloro I quali fanno Le lotte Sindacali Si parla Di benefit Per chi Svolge Attività Lavorativa Ancora Ma non si parla Di pensionati Ai quali Va data La sicurezza Del loro presente E del loro futuro Tenuto conto Che la vita Grazie a Dio Si è allungata E che quindi Questa vita Va vissuta Non in maniera Negativa Come accade oggi Allora Il partito Di riferimento È necessario Il partito Di riferimento Va organizzato Il partito Di riferimento Ha bisogno Di uomini Di donne Di giovani Che Capiscono Che cosa Noi vogliamo Per Gli anziani Certamente Ma soprattutto Per coloro I quali anziani Saranno domani Cioè Il futuro Dei giovani Oggi È negativo È buio E allora Noi Vogliamo Dare una mano Così come All'Italia La mano L'abbiamo data Nelle epoche Andate Abbiamo portato L'Italia Ad essere La sesta potenza Mondiale Su questo Siamo attestati E su queste basi Noi vogliamo Far crescere Questo partito Che deve diventare Il partito Di riferimento Degli anziani Delle famiglie E quindi Dei giovani Delle donne Italiane Che vogliono bene A loro stesse E che vogliono Vedere I loro figli Messi bene Nel prossimo Futuro Dateci una mano Dateci una mano Chiamateci Volete Integrarvi Nel partito Pensionati Volete organizzare Il partito Pensionati Volete mettere Una sede Del partito Pensionati Volete Fare attività Con il partito Pensionati Chiamateci Volete Sostenerci Voi che potete Farlo Che avete Un'attività Florida Che avete La possibilità Di dare Un contributo Dal partito Pensionati Fatelo C'è l'Iban Qui Impresso Sul teleschermo Potete Scrivervelo E potete Mandare Dei messaggi A noi altri Vi do anche La mia mail Fortunato Sommella Chiocciolalibero.it Se preferite Pensionati D'Europa Chiocciolalibero.it Se volete Chiamarci Che per voi È più comodo Potremo Fissare Un appuntamento Ci vediamo E ne parliamo Insieme Grazie Per l'ascolto Arrivederci Alla prossima Trasmissione E pasori Legalizzati Terrete E' più Auto blu Sangue blu Cieli blu Amore blu Rock e blu E' più comodo E' più comodo E' più comodo Veldrusconi Veldrusconi Terrete E' più comodo Mastella Clemente Mastella Vittoria Brambilla Bossi E' Pannella Dribbla Labo Per Martina Stella Le solite foto E' più comodo Surnovella Terrete E' più comodo Passolino Terrete E' più Platinet Terrete E' più comodo E' più comodo